Sono con Edoardo Frollini, lo zingaro Basile e Aruf al Talib. Grazie. Allora, anche qui c'è da ragionare sui vostri personaggi. Allora, devo dirti che vi siete piaciuti tutto. Quello che mi ha impressionato è proprio la vehemenza iniziale dove tu eri proprio... Cioè hai messo il carico da undici, insomma, t'ho visto proprio nero nero nei confronti proprio del sistema. In quel momento era rappresentato da Andrea, insomma, dal professore. Sì, sì, perché c'è quest'impeto, un giovane impeto che si trova di fronte al sistema. Tutta la rabbia che ho avuto dentro, tra l'altro. Esattamente, perché in questo caso entra in gioco cosa? I servizi sociali. Certo, lo spettro. Esatto, che per un ragazzo che magari già ha una situazione difficile a casa, nel luogo in cui vive, tutto quanto arriva alla tegola dei servizi sociali e vede nero e se la prende con, in quel momento, il professore che è l'entità che secondo lui ha scatenato tutto ciò. Tu invece, Arun, probabilmente sei quello un po' più accomodante, no, verso questo professore. Non penso che il mio personaggio sia accomodante, penso che Talib riesca a ottenere, a fare breccia nel cuore di Albert. Probabilmente sì, è vero. Perché è l'unico che forse crede realmente in un riscatto da questa società che ormai sta andando a distrutti. Alla deriva. Alla deriva. E quindi l'intesa che crea con Albert è qualcosa di speciale. Talib sarà appunto il personaggio che metterà in campo l'olocausto siriano. Quindi parlerà di questo tema che... D'altro tempo, oltretutto, perdonami, fuori dalla scuola, a pochi metri c'è questo famoso zoo. C'è uno zoo, c'è uno zoo pieno di rifugiati dove appunto nessuno riesce a tollerare appunto che queste persone possano integrarsi o vivere. Invece Talib porta questo tema che cerca appunto di riscattare tramite il denaro, perché è l'unica fonte che lui vede venendo dalle periferie per poter modificare la situazione di questa classe. Penso che sia stato molto interessante fare questo processo creativo. Non solo qui, perché noi abbiamo già fatto 30 repliche al Teatro Marconi, quindi Talib è stato un personaggio che... Ti è piaciuto? Che mi è piaciuto molto, ma che tra l'altro ho dovuto ritrovare, ricercare, perché è un personaggio che viene dalla strada, un personaggio che ha sofferto molto e che cerca il riscatto nel qualsiasi cosa gli si presenti di fronte per appunto ritrovare vitalità. Però sei riuscito insieme ad altri, insomma, compreso anche, voglio dire, Basile, il modo appunto per poi creare una via di comunicazione con Albert. Assolutamente, perché alla fine siamo tutti esseri umani. Certo. E questa è la cosa che forse Talib riesce a accogliere in Albert, che nonostante lui rappresenti un professore, lui è un essere umano. E quindi lui cerca di attaccarsi a questa sua vitalità. E cercando di risvegliare gli animi dei suoi compagni e a trasformarli in qualcosa di benefico e non in odio. Bene. Basile, allora, stessa domanda che io ho fatto anche a tutti gli altri. Dove ti sei pescato questo zingaro? Da dove viene? Lavorando naturalmente con Giuseppe. Quello assolutamente. Fase di lettura, insomma, no? Sì, il lavoro con Giuseppe è stato preziosissimo. Determinante. Sì, e sinceramente sono andato a riscoprire un po' l'adolescenza, perché vuoi o non vuoi sono comunque sensazioni, emozioni che tutti, in modo diverso, ma tutti abbiamo provato. Certo, durante quella fase, no? Durante quella fase, la fase di ribellione, di contestazione. Esatto, bisogna trovare il proprio posto all'interno della società, del mondo e bisogna lottare. E in questa situazione difficile poi di povertà e di disastro generale, bisogna trovare la forza. Chi lo fa in una maniera, chi in un'altra e con lui, per esempio, abbiamo trovato un legame particolare e l'unione fa la forza, riusciamo insieme a creare un po' la forza. Insieme anche le altre due fanciulle. Le due fanciulle, sì. Certo, un aneddoto particolare, insomma, che ti è capitato nella creazione del personaggio? Nella creazione del personaggio, ma... Qualche episodio che, insomma, divertente... Divertente, cioè, divertente ci può stare che all'inizio il personaggio saltava sui banchi. Certo, ho visto, ho visto. No, poi tu sembra fantastico, hai fatto anche queste capiole. No, ho lavorato in maniera diversa, in due modi diversi, sul corpo e sul personaggio. Il personaggio, perché Talibba ha un background, appunto, di strada, quindi mi sono rivisto molti film americani, degli anni 90, che rappresentavano, appunto, questi afroamericani. I rapper, no? Non solo. Certo, certo. E poi, a livello fisico, invece, mi è venuto in mente Mercuzio, fatto da Royal Albert Hall di danza, classica, perché è un personaggio esplosivo. E quindi cercavo di ripetere le stesse cose che lui faceva, però in maniera più stretta. Più stretta. E quindi stavo... E quindi stavo, sì, stavo saltando sul banco in prova, in realtà, mettendoci tutta la forza, la gritta, la rabbia. Il banco non mi ha seguito, però si è rotto. Per un pelo, per un pelo, sono ancora qui. Senza conseguenze. Senza conseguenze. Vabbè, tante risate, però. Sì, quelle sempre. Allora, ragazzi, Arun, grazie mille. Grazie a te. Anche a te, Edoardo, in bocca al lupo. Viva il lupo. E buono spettacolo. Grazie mille. Grazie. Alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao, Edoardo, ciao.